Dovrei ristrutturare casa ma non ho 800 euro sulla posta, posso fare poco. Non so più come fare né con i soldi, né con la mia vita, né con la situazione familiare. E' un po' difficile per me che sono solo, senza affetti, senza lavoro, con un grosso sovrimento, una depressione. Eh, magari non fossi rimasto sfigurato, in quest'ora sarebbe tutto diverso, perché il lavoro l'avevo trovato, ma sono andato per quello. Ma sono andato per quello, perché ero depresso per quello. Ma sono andato per quello, perché ero depresso per quello. Ma sono andato per quello, perché ero depresso per quello. Sono veramente giù. Non ce lo faccio più. Questo che è il mio regalo di mia nipote, al di metà me ne sono prestati. Ah, se le cose mi fossero andate diversamente, la colpa è la mia, non è perché sono rimasto sfigurato. Quella è una sciocchezza. Solo che io, siccome da stupido me la sono presa, stupidamente, insomma, ho rovinato un po' l'andamento, il corso della mia vita, che si è svolto in tutt'altra maniera da come si sarebbe dovuto svolgere, cioè con il lavoro, l'amore, l'amicizia. E va bene. Ormai non c'è più tempo per rimediare. Forse sì. Forse sì. Io spero di sì. Io spero di sì. Io spero di sì. Io spero di sì. Sì. Io spero di sì. Grazie a tutti.